Se cercate i crediti vi linko in descrizione il sito di TifaCoinZone, il miglior sito di crediti al momento disponibile sul mercato dove avrete col mio coupon il 6% di sconto. Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, benvenuti alla recensione di McCormack, Team of the Season. Vi dico subito che questa recensione non sarà come le altre, in quanto non mi soffermerò come prima, come in tutte le altre recensioni, su tutti i singoli parametri, ma vi dirò pressoché velocemente tutte le statistiche che mi sono piaciute, quelle che meno, quelle che ritengo medie, eccetera, eccetera. Giocatore pagato 90.000 crediti, iniziamo a parlare del tiro. 89 sulla carta e vi assicuro ragazzi che questo è il mio tiro preferito, con quello di Sturridge, Team of the Season e Snyder, second in form, perché sì, ve lo aspettavate, dai ragazzi, ditemelo, ve lo aspettavate. Allora, 90 di curve, quindi tiro a giro, 87 di long shot, 85 di tiro al volo e 99 di potenza tiro. Cioè ragazzi, è meraviglioso il tiro di McCormack, non devo aggiungere altro perché le stats parlano da loro, sì, da loro. La potenza tiro è davvero qualcosa di magico, cioè ragazzi, se voi tirate col destro, il portiere avversario neanche col binocolo, con davvero le mani d'oro, con qualsiasi cosa riuscirà a bloccarvela, innanzitutto. Ma questo, ma non solo, cioè, a volte mi è capitato di tirare e la palla poi figlia in porta, cioè, buca davvero le mani dei portieri. Il long shot è davvero buono, io considero McCormack un giocatore fondamentalmente d'area di rigore, non mi baso molto su quello che fa all'esterno dell'area di rigore, però il long shot è davvero buono. Cioè, se voi tirate dai 20 metri, dai 25, segna, cioè è davvero una sentenza pure qua. Il tiro al volo è buono e il tiro a giro anche. Abbiamo una finalizzazione davvero, davvero buonissima, ragazzi, è un cecchino. In area non sbaglia mai, e sapete quanto io sia fiscale con la finalizzazione, ma vi assicuro che il 94 riportato in carta si rivela veriterissimo in cap. Parlando della velocità, non posso che considerare una statistica pressoché media, abbiamo un 80 sulla carta, 80 di accelerazione, 82 di sprint speed e 87 di agilità. Con questa statistica, vi devo dire la verità, mi sono trovato un po' in disappunto, perché l'agilità non è 87, ragazzi, dai, parliamoci chiaro, è molto meno. L'accelerazione, bene o male, e il sprint speed sono abbastanza buoni. Appunto, quello che penalizza questo giocatore è l'agilità, perché se avessimo davvero un 87 di agilità, probabilmente quell'80 non sarebbe 80, ma sarebbe qualcosa in più, come al solito, perché i giocatori agili dimostrano sempre un po' più di velocità. Però, insomma, l'80 non è una statistica così alta, e quindi vi posso ben dire che la velocità rimostrata e quindi la statistica si rivela veritiera. Il 92 di bilanciamento è uno dei suoi pro migliori, però questo giocatore non cade mai, semplicemente non cade mai. La strength, purtroppo, non è l'87, è molto meno, la maledizione dell'87. Non è l'87, perché questo giocatore è alto 175 cm, e comunque la palla la perde contro i bestioni. Quindi, sembra un po' molto sprecata questa statistica in un giocatore appunto di 175 cm. Parlando del dribbling, invece, diciamo che anche lì non è che mi sia piaciuto molto, lo considero una statistica media. Abbiamo 3 stelle skill, il dribbling, vabbè, non è malaccio, vi devo dire la verità. Il controllo palla è abbastanza buono, la palla ce l'ha attaccata pressoché quasi sempre ai piedi. E comunque sia, quando aveva velocità non perde mai palla, i stop sono davvero buoni. Diciamo che McCormack lo considero un giocatore fuori dall'aria da saper usare. Parlando del colpo di testa, anche lì, purtroppo non è che abbiamo un giocatore supremo. 175 cm, 69 di salto e 71 di heading accuracy, ovvero precisione. 73 non è molto, anzi è molto poco. Questo giocatore ha anche 69 di salto, quindi salta poco, e la palla è 71 di precisione, non è molto. Io non ho mai preso la palla di testa con lui, perché non crossavo, perché sapevo che comunque sia non l'avrei mai presa. Considerando che comunque in area avevo giganti, perché il 90% delle persone usa difensori da 1,85 e più. Quindi, per finire, parliamo del posizionamento che anche qua risulta mediocre. Questo giocatore purtroppo non ha un posizionamento alto, ha 73 di posizionamento e in area si vede poco. Cioè, vi devo dire la verità, qualche volta sulle ribattute la prende, la prende. Però, quando tipo la voglio mettere in mezzo, voglio fare un passaggio lungo, non lo trovo così spesso. Al contrario di Starridge, però, stranamente lui fa più taglia e più movimento. Quindi, è buono. Io ho finito ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di dirmi se l'avete provato, come vi è sembrato. E noi ci risentiamo, a un prossimo video. Ciao ciao!